ciao a tutti siamo qui oggi con marta melchiorre ovvero in questo momento la nostra verusca veruca verusca verusca mi piaceva di più l'ho fatto russo allora sei in scena in uno spettacolo meraviglioso e il tuo parto da questo per poi parlare di te è un ruolo un po particolare lo è lo è sei un po capricciosa un po tanto direi e hai un papà e ho un papà che mi concede qualsiasi cosa io desideri quanto c'è di marta in questo personaggio allora così scopriamo se sei capricciosa allora veruca marta veruca allora sì da piccolina ero c'era in gran parte in me molti c'erano molti lati di veruca nel senso che comunque i miei cioè io sono nata in una famiglia molto fortunata e li saluto mi mancano ogni tanto li torno a trovare a venezia e diciamo che mi hanno un po viziata mi hanno un po viziata perché diciamo che loro hanno tutto quello che che hanno ottenuto nella loro vita hanno faticato perché non venivano da una famiglia benestante e quindi poi avendo due figlie femmine io e mia sorella claudia mio padre mia madre ci volevano dare qualsiasi cosa e quindi sì sono stata un po viziata però poi tornando a milano e facendo l'accademia quindi staccandomi dalla famiglia ho cominciato ad apprezzare molto tutto quello che loro mi hanno sempre dato tutto quello che poi consideravo diciamo scontato no e diciamo che sì quindi c'è una parte di veruca in me ma gran parte di veruca la trovo l'ho trovata guardando guardando osservando molto le bambine e che ce ne tante così in giro sì ed è successo per esempio un aneddoto l'altro giorno eravamo alla fabbrica e c'è la la figlia di moira la produttrice e io la guardavo e lei stava facendo i capricci perché voleva andare assolutamente al ristorante in quel ristorante quella sera e a un certo punto ha fatto un movimento particolare e mi è talmente piaciuto perché era talmente comico quel movimento ed era talmente da veruca perché era una bambina in quel momento che voleva quella cosa lì che gli l'ho copiato non gliel'ho ancora detto la bambina avanzerà i diritti d'autore assolutamente e l'ho messo in veruca quindi si osservo molto perché poi è un personaggio estremo nel senso è portato all'estremo perché è una bipolare parliamone lei è adorabile come dico io quando entro in scena con mio papone fabrizio corucci che è è una persona che auguro a tutti di conoscere nella propria vita perché mi è andata proprio bene nel senso che noi ci siamo presentati il primo giorno di prove e mi hanno detto questo è tuo papà e da subito è stato amore adesso siamo talmente morbosi che che anche durante i day off quindi tipo oggi è un day off noi passiamo le ore al telefono lui ormai è veramente il mio papà lui però nasconde il banco ma sì perché se no e quindi capito sì mi è andata molto bene con lui e e diciamo che mi vizia mi porta ogni giorno io sono una una finta ballerina nel senso che mangio come non lo so un dinosauro non si direbbe mai così e lui ogni giorno mi porta i croissant mi porta dei regali è veramente carino ma stavamo dicendo mi stavo perdendo che veruca è bipolare quindi ha questo lato dolce e adorabile ma a volte diventa quasi demoniaca quindi quindi è stato molto bello lavorare sul proprio sul su questa bipolarità e come dicevo prima anche a te in questo mi è stata veramente vicina e alleata gillian bruce che è la coreografa dello dello spettacolo che oltre a oltre ad avermi creato dei numeri secondo me meravigliosi e molto difficili dal punto di vista tecnico perché comunque faccio delle cose tecnicamente toste diciamo che lei è stata vicina a me è stata un'alleata spesso noi donne non siamo come gli uomini che che fanno squadra no che che empatizzano tra di loro noi spesso siamo delle stronze si può dire qui si può dire e quindi molto spesso nella mia vita anche che ne so universitaria mi è capitato di trovare delle donne che si mettessero contro di me magari anche solo per un punto di vista estetico no invece gillian è stata è stata forte è stata fenomenale in questo processo di studio del personaggio perché mi ha subito dato la sua mano e mi ha subito aiutato a capire e analizzare tutti i vari punti di trasformazione di veruca infatti le sue non sono coreografie ma sono veramente il racconto di una storia e quindi quando io entro che ne so nella coreografia degli scoiattoli ho tutti i vari momenti all'inizio voglio questi scoiattoli con tutta me stessa poi piano piano scopro che sono scoiattoli grandi quindi è una sorpresa poi comincio a dare loro degli ordini no e e poi questi si ribellano e diventano cattivi alla fine divento totalmente impaurita dalla situazione fino a che la situazione si esaspera e muoio tra virgolette e tutti questi passi lei me li ha spiegati me li ha come si può dire le ha fatti diventare tuoi sì e quindi la ringrazio se vedrà questa intervista insomma sentirà questa cosa e perché poi noi noi siamo cioè fondamentalmente noi bambini bambini finti no siamo un po' l'esasperazione delle problematiche moderne attuali ma poi secondo me siamo tutti bambini sempre sì portate in scena una parte di noi che esiste anche quando siamo più grandi perché c'è sempre per fortuna e diciamo che noi proprio c'è proprio noi nel senso io augustus mike tv e violetta la mia amica michelle siamo i nostri genitori rappresentiamo proprio quello che di sbagliato avviene nelle famiglie se vogliamo no e e l'importante però è in questo procedimento estremo comunque portare sempre una verità cioè tu devi essere veruca esaurita e tutto quanto ma vera cioè io veramente vivo vivo il mio personaggio al cento per cento a tal punto che dicevo a lei prima stavamo chiacchierando che io la sera arrivo a casa che sono talmente piena di adrenalina endorfine che dorme con la gamba tirata su che faccio un attimo fatica poi a smaltire tutto questo tutta questa energia che mi porto dietro ed è bellissimo perché secondo me questo poi ti fa vivere il personaggio in maniera vera e arrivare al pubblico e arrivare al pubblico sì quando hai deciso che nella tua vita saresti stata una performer quando ho deciso che sarei stata una performer allora io volevo essere una ballerina la mia ho cominciato a studiare io voglio fare sì questo volevo fare perché perché amavo da morire la mia insegnante la mia prima insegnante Denise Zendron e mi ero totalmente fissata sul mondo della danza e io ho fatto gli esami con la Royal Academy con la Scala quindi comunque ero proprio quelle tipiche bambine che con lo chignon sempre che vanno solo a danza i ragazzi non esistevano ero vivevo totalmente per quello una vita noiosa e io ho anche diciamo cominciato a fare quello nel senso ho lavorato in compagnia come ballerina poi a un certo punto mi sono accorta del musical mi ricordo la compagnia dell'arancia mi ha veramente colpito e ho detto ma che figata questa cosa che tu ok balli no però devi cantare devi recitare e devi raccontare una storia perché tu non sei un esecutore tu non vai lì e fai il tuo ballettino col sorrisino ma tu diventi veramente quella cosa lì quel personaggio in particolare e la cosa bella che mi colpiva del mondo del musical era che potevi essere magro potevi essere grasso potevi essere brutto potevi essere basso nella danza molto spesso devi essere una cosa specifica e la cosa che mi spaventava quando ballavo in compagnia era che non avrebbe più potuto mangiare i croissant no non potevo mangiare i croissant e soprattutto sì io avevo delle colleghe che si mangiavano una mela al giorno ed era veramente triste questa cosa invece nel musical tu hai tutte le marie mangiano come dei disperati mangiamo continuamente nel nostro camerino nella nostra pink room non so se hai avuto l'onore di vederla sì sì sono stata con crisi e noi e noi lì noi lì ogni giorno qualcuno porta qualcosa ci strafoghiamo grazie finché due un giorno esploderò per la gioia di tante persone ma fino a quel giorno continuerò a mangiare allora io parlo spesso di audizioni nelle mie interviste perché sono rivolte a un pubblico giovane ma allora raccontaci un pochino servono o non servono cioè questo cliché insomma questo modo di dire che secondo me è tale non è inutile va andarla a fare tanto li hanno già deciso tutti perché sei l'amico di perché sei io poi sono in particolare diciamo qui colpita nel segno nel senso che ovviamente ormai questa cosa che io sto con federico non è una cosa sconosciuta bellone per chi non lo sapesse perché siamo federici quello lì quello lì insomma quello che tutti vorremmo per favore dacci una parte quello lì insomma e quindi fondamentalmente da quando noi stiamo insieme per me questa cosa è il triplo difficile nel senso che non sempre ci si domanda come sia stare nei miei panni nel senso che io grazie a dio sono uscita dall'accademia e ho sempre avuto la fortuna di lavorare perché sono sempre stata molto determinata e volevo fare questo da quando poi ho deciso di fare music l'ho fatto l'accademia la sdm ho studiato tantissimo per farlo e per me era la cosa più importante al mondo e quindi sono uscita e ho lavorato ho fatto jesus christ con ted neil in giro per l'europa eccetera eccetera fino a che a un certo punto mi sono fidanzata con federico e lei ha detto a lui o fai il postino o ti lascio ma lui no e lui non voleva cambiare idea e quindi questa cosa qui diciamo che poi ti causa delle cose negative ma anche positive nel senso che per esempio in particolare all'audizione della fabbrica io ricordo un momento di particolare ansia e nonostante io sia molto diciamo forte perché poi si sono forte mi ricordo che avevo un sacco di occhi puntati e c'era questa cosa lo farà lei lo farà lei quando in realtà federico mi aveva detto guarda tu saresti giusta ma devo vedere tutte le altre quindi buongiorno vado all'audizione c'era questa cosa qui ma in realtà poi mi è scattata questa cosa di determinazione che è uno dei miei punti di forza in cui ho detto senti sai che c'è io adesso voglio assolutamente dimostrare a tutti che quel ruolo è mio e me lo prendo io e quindi lì poi c'è stato un riscatto positivo che ha fatto sì che io facessi l'audizione al meglio delle mie possibilità e che ha fatto sì che lui poi mi dicesse federico sei tu veruca e quando me l'ha detto è stata una gioia immensa anche per il fatto ha iniziato a parlargli nuovamente perché non ho tolto saluto tutto e lì ha detto come guardi anche le altre c'è scene di permettere di guardare le altre ma no 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 assolutamente no e da quel momento è stato positivo perché so quanto lui ami questo mestiere e quanto lui lo rispetti no guarda questo l'ha testimoniato anche Simone Mike tv proprio che ha avuto la parte andando per l'ensemble quindi quando lui mi ha detto sei tu veruca è stata una gioia a perché ce l'avevo fatta b perché so che lui quando fa una scelta fa la cosa più giusta per lo spettacolo e non per se stesso ed è una cosa secondo me che gli fa onore e che poi si vede perché ragazzi adesso non è che voglio fare la come si dice quella che se la tira ma questo casting particolare della fabbrica secondo me è uno dei cast più azzeccati io quando sono in scena e guardo i miei colleghi io vedo esattamente quella cosa lì cioè loro sono esattamente nel posto in cui dovrebbero essere quando io guardo Mike tv è lui quando io guardo mio papà è veramente mio papà e questo ti aiuta veramente ad entrare nel personaggio e a viverti la fabbrica pensate quando guardano lei pensate quando mi guardano questi poverini che paura pensate agli scogliatti esatto quando la vedono comincia una volta sì e quindi no ed è bellissimo perché la pettinatura sì le trecine un po sembra un po' inga di frankenstein union oggi e quindi così insomma sì uno dovrebbe fregarsene di queste cose del fatto che stai con quello stai con quello perché poi alla fine se uno deve dire di negativo si dirà sempre no troveranno poi seduti dall'altra parte ci sono miliardi di persone che vengono a vedervi ci sono gli addetti anche alla stampa e il grande pubblico che è il più importante insomma se se non piaci non piaci non piaci invece veruca mi sta dando delle belle soddisfazioni perfetto ascolta l'ho fatto questa domanda anche a christian ginepro yes tante persone importanti sono venute a vedervi è venuta nel trepco eccetera eccetera che bello chi avresti voluto avere in prima fila tanto lei la risposta di ginepro non la sa perché ancora non è uscito chi avresti voluto avere in prima fila e che non non c'è non è venuto a vederti chi avrei voluto avere in prima chi vorresti ma devo dire per forza una persona che non è venuta il sogno di marta sarebbe stato avere in prima fila a vederla la mia nonna che non c'è più perché secondo me sì che mi vede perché perché lei anche dei tuoi capricci ha sempre creduto in me e ha sempre visto in me questa energia questa positività e l'ha sempre spronata e approvata e quindi sì volevo avere lei devo dire che ora con questa domanda mi state tutti spiazzando perché diciamo tutte cose strane sveleremo il pubblico il perché ma tutti mi avete spiazzato perché uno si pensa no so il presidente degli stati uniti ma il più grande direttore ed è un teatro americano no tutti e due mi hanno spiazzato moltissimo e se invece avessi la possibilità di scegliere hai una serata tutta per te puoi andare a cena con a cena con roberto bolle attenzione si secondo me lui è un artista ballerina vuoi che non è un artista fenomenale è un artista fenomenale bellissimo ci sono stati dei momenti no in cui hai detto basta questo mestiere non lo voglio fare più allora basta questo mestiere non lo voglio fare più non l'ho mai detto ma ci sono stati dei momenti no ed è fondamentale secondo me essere determinati essere avere una grande perseveranza perché purtroppo purtroppo ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene nel senso che anche io ho fatto varie audizioni che non sono andate nel senso ma devi avere in te una tale voglia di di farcela e di continuare non devi smettere di studiare secondo me è fondamentale studiare sempre perché poi quando fai lo spettacolo quando sei in scena fai sempre la stessa cosa no e quindi ti alieni un po' ed è bellissimo quando invece hai dei momenti off in cui puoi continuare a studiare perché poi è lì che migliori e quindi sì ho avuto dei momenti negativi ma grazie a dio una qualità che ho forte è il riscatto il volercela fare quindi diciamo che ho sempre trasformato quei momenti no in voglia di studiare di più perché perché magari a volte sai spesso tendiamo a dire non mi hanno presa ma hanno preso quella lì perché questo questo e questo no perché così ti dai anche un po' una giustificazione poi a volte succede che magari tu pensi che abbiano preso una persona sbagliata capita no però secondo me quando non ti prendono è intelligente secondo me andare a capire cosa non andava in te o magari a volte semplicemente non eri quello non eri quella cosa lì esattamente infatti secondo me una cosa fondamentale è capire è l'onestà con se stessi cioè tu devi capire chi sei che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare perché non possiamo fare tutti tutto e quindi secondo me anche per fisicità anche per fisicità anche per che ne so estensione vocale oppure se si cerca un attore che abbia tantissime doti come danzatore è così e secondo me un punto di forza che ho è proprio questo cioè quando vado ad un'audizione ti studi tanto il tuo personaggio lo studio come se fosse l'ave maria cioè e lo studio talmente tanto e c'entro talmente tanto dentro che chi mi guarda vede quella roba lì e quindi è costretto a prendermi capito? capito? quindi mi hai portato sull'argomento della nostra ultima domanda allora se ritorniamo al mondo delle audizioni ripeto noi parliamo tanto ai ragazzi giovani che vorrebbero fare questo mestiere tre consigli da Marta e tre consigli da Veruca per le audizioni allora tre consigli da Marta allora tre consigli più che tre consigli tre cose che secondo me sono fondamentali le stavo dicendo anche prima sì sì andiamo così la prima è la determinazione cioè dovete essere così determinati dovete volere questa cosa con l'anima e quindi studiare tanto per arrivare la determinazione, la perseveranza perché come dicevamo prima non è facile, è difficile ci saranno dei momenti no e ci saranno sempre ma anche sul palco a volte cioè per esempio io raccontavo a te ho le punte tutto il tempo e a volte quando arrivi alla domenica dopo la seconda doppia è faticoso, è faticoso continuare ad andarci sopra con le punte, col gesso e quindi devi essere talmente determinato che non senti neanche più il dolore e un'altra cosa importante appunto è l'onestà con se stessi nel senso che devi capire chi sei, cosa puoi fare devi capire i tuoi limiti devi molto spesso la gente va alle audizioni e si presenta per cose che è come se io andassi a fare un'audizione per USA Story e mi presentassi per Anita no? mi piacerebbe tanto ma oggettivamente mi guardo allo specchio e capisco che effettivamente io se vado a fare USA Story prima le ho anche detto di non andare per airspray non è il mio no, le ho detto che o se mangia tutti i croissant che trova da qui a non so il prossimo ma senza fermarti mai proprio beh ci proverò un giorno forse no comunque sì bisogna essere e secondo me bisogna sempre studiare, studiare tanto e dicevo con lei anche Gip che era un mio insegnante in accademia all'SDM ci ha sempre insegnato a circondarci del bello ad essere persone con un cervello e quindi ad andare a mostre a vedere cose a spronarci di continuo in modo tale che poi tu tutto quello che immagazzini in queste esperienze poi lo porti in scena e non sei una persona vuota perché purtroppo c'è da dire anche questo oltre a saper cantare, ballare, recitare e tutto quanto devi avere tutto un mondo attorno a te e questo mondo lo esprimi con i tuoi occhi e quindi è una cosa fondamentale studiare e circondarsi del bello e conoscere insomma mancano i tre consigli di Veruca i tre consigli di Veruca, oddio cosa direbbe Veruca? cosa direbbe Veruca? Veruca direbbe che devi essere molto determinato lo direbbe anche Veruca perché lo devi volere ora! non lo so cosa direbbe Veruca Veruca è una viziata poi si direbbe a papà di comprare teatro probabilmente sì si farebbe comprare teatro comprare la parte e probabilmente se lo farebbe produrre cioè lei è così e poi si stufa poi si stufa e non le piace più il giorno dopo manda in scena un'altra perché lei magari vuole andare a prendersi gli scoiattoli capito? Veruca è così ed è assurdo perché spesso con Christian succede che lui invece è tutto in un altro mood rispetto a Veruca giustamente quando fa lo spettacolo perché lui si distrugge ogni sera fa un lavoro allucinante ed è fenomenale ragazzi anche lui è un cast fenomenale capitanato da un protagonista fenomenale ed è assurdo perché a volte lui quando comincia il secondo atto si strugge in camerino si devasta e spesso ci chiede una mano a noi ma io essendo totalmente entrata nel mood di Veruca perché per me è fondamentale entrare in quel mood perché sennò poi non risulta vero è un grande aiuto io in quel momento sono talmente drogata e ho talmente sti occhi a palla che è meglio che lui non mi guardi capito? perché lo sfaso e giustamente infatti spesso va ad altre persone in quel momento perché giustamente Veruca è quella cosa lì Veruca è una bimba che vuole tutto quello che vuole quando lo vuole e che si vive le cose a 360 gradi in maniera a volte anche superficiale se vogliamo e quindi tu devi entrare in quella cosa lì Prima di salutarci cosa c'è nel futuro di Marta? Cosa ci aspettiamo? Cosa ci aspettiamo nel futuro di Marta? Bella domanda Ma sai che io mi auguro di continuare a fare questo mestiere perché credo sia il mestiere più bello del mondo credo credo che noi che lo facciamo siamo fortunati perché non è da tutti fare A quello che ti piace e B avere perché poi che ne so anche in Veruca per dire quando tu esci dallo spettacolo e l'altro giorno le ho mostrato a lei questo video di queste bimbe che sono state adorabili e mi abbracciavano e mi volevano portare a casa con loro e questo mi faceva commuovere anche se io volevo rimanere nel personaggio e stare insomma attiva e sorridente ma mi ha distrutto questa cosa ed è il mestiere più bello del mondo perché regala emozioni al pubblico e poi loro te le fanno tornare indietro quindi siamo fortunati insomma quindi mi auguro di continuare a fare questo mestiere ma ne siamo certi mi auguro che questo mestiere diventi veramente un lavoro perché purtroppo con le ultime cose che stanno succedendo anche in Italia a volte ti viene la tristezza e ti viene da pensare che che non sia ancora proprio un lavoro e non lo so forse in un futuro futuro mi darò anche alla produzione nel senso che parlavamo prima nel senso che penso che sia fondamentale guardare quello che fanno fuori e quello che fanno all'estero quello che fanno a Londra quello che fanno in America e copiare perché sono bravi in questo abbiamo già avuto delle noi ormai ci uniremo e faremo esatto abbiamo già avuto delle folgorazioni abbiamo capito che noi potremmo risolvere dei problemi lo faremo esatto secondo me lo faremo ed è importante perché secondo me l'Italia è un paese meraviglioso pieno di arte pieno di cultura pieno di qualsiasi cosa si mangia benissimo il teatro deve risollevarsi e secondo me noi possiamo farlo e io ce la metterò tutta per farlo gli artisti veri ce li abbiamo anche noi ce li abbiamo anche noi di pensare che tutto all'estero è bellissimo ce li abbiamo anche noi assolutamente ricordiamoci che siamo la culla di grandissimi artisti di grandissimi autori e abbiamo anche dei teatri bellissimi esattamente che vanno rimessi a posto e secondo me questo lavoro grande lo possiamo fare anche noi siamo già fatte lo spot basta siamo a posto è fatta bene Marta io ti ringrazio tantissimo grazie per essere stata qui con me grazie a voi e se vi siamo piaciute come sarà sicuramente stato mettete mi piace a questo video solo uno piccolo mi piace mi piace la mia pagina e condivideteci come se non ci fosse un domani e attenzione a queste nuove produttrici ne arrivo ciao a tutti ciao 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 ciao